Per il 73% degli intervistati quando si parla di lavoro l'emergenza principale è costituita dai giovani, mentre a proposito di pensioni il 50% di chi ha risposto alle domande ritiene che per migliorare l'attuale sistema previdenziale serva maggiore solidarietà fra le generazioni. Sono alcuni dei dati che emergono dal questionario che il gruppo regionale dell'Italia dei Valori ha sottoposto a 6.000 piemontesi per sondarne gli umori su temi che spazzano dall'economia alla sanità e che presenterà domani alle 18 all'Hotel Royal. Particolarmente interessanti spiega il segretario Luigi Cursio quelli relativi alla percezione del problema della sicurezza. Emerge per esempio che solo il 9% ritiene i clandestini una emergenza, mentre il 69% ritiene che le mafie siano una vera emergenza, una vera preoccupazione per la gente. La preoccupazione del lavoro giovanile è un elemento che non solo preoccupa i giovani, di fatti un numero significativamente alto, quindi più della maggioranza, aveva oltre 40 anni e ha indicato come un elemento prioritario di cui il governo dovrebbe occuparsi proprio il lavoro dei giovani. Non solo dal nuovo governo, il 51% degli intervistati si aspetta, più in generale la soluzione della crisi economica e il 58% la riforma elettorale, mentre soltanto lo 0,5% si attende alla difesa delle banche.